Buonasera e benvenuti da Borsari Strumenti Musicali. Oggi ho veramente il piacere di presentarvi un nuovo flauto della marca Kakulin, una ditta coreana veramente di grande qualità. Abbiamo un modello, come vedete, completamente con un disegno sulle chiavi, quindi completamente ricamato, con la testata in argento, fori aperti, sol fuori linea, discendente al si. Uno strumento veramente molto pronto e molto facile, esatto, come anche l'altro strumento che abbiamo provato sempre della stessa azienda, sono strumenti veramente imbattibili, soprattutto dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, ecco, quindi diciamo li possiamo mettere insieme al marchio di Zao, al marchio Azumi, quindi strumenti veramente vincenti nella propria gamma di prezzo. Questo in particolare mi sembra comunque di una qualità costruttiva superiori a queste marche appena citate, quindi mi dà l'impressione di, diciamo, prendere in mano uno strumento professionale, dalla meccanica molto silenziosa, da una temporatura bella, stabile e sicura e quindi veramente un flauto dalle altissime prestazioni. Passiamo al suono. veramente uno strumento bello, 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 come avete sentito c'è un suono rotondo, un suono veramente molto morbido, pastoso e ricco di armonici e questo modello in particolare c'è veramente una grandissima spinta, come potete sentire, c'è veramente un suonone bello, bello, facile e veramente pronto. Io vi invito pertanto qui da borsare strumenti musicali, i rotondatori a Bologna per venirlo a provare, il prezzo è davvero competitivo. Grazie e a presto.